Benvenuti in questo mio nuovo video Baci 9.30 di Fortnite Hanno aggiunto tantissime nuove cose E hanno fatto anche dei cambiamenti Sulla mappa di Fortnite Possiamo andare a vedere già uno Hanno aggiunto in giro per la mappa Questi ombrelloni giganti Guardate Ad esempio c'è uno qua E anche delle palle giganti Eccola qua Ad esempio è questa C'è una palla gigante E possiamo anche muoverla Guardate Rimbalza anche Guardate che figata Possiamo anche muoverla È gigante questa palla Guardate E ce ne sono anche in giro per la mappa Ad esempio una ne vediamo qua Poi qui c'è anche un ombrellone Gigante Fortnite ha voglia proprio d'estate Comunque questo video finisce qua Spero che ti sia piaciuto Se è così iscriviti al canale Per restare sempre aggiornato su Fortnite Lasciami un mi piace per supportarmi Commenti e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao